La prima cosa che bisogna fare quando si ha un problema o si ritiene di averlo è guardarsi intorno. Molto probabilmente altre persone l'hanno avuto, l'hanno affrontato e l'hanno risolto. Noi siamo partiti il 20 ottobre, abbiamo proposto un percorso, lanciato un progetto, abbiamo fissato un primo appuntamento che è stato quello di novembre dove abbiamo fatto delle attività in azienda. L'idea era quella di iniziare con un big bang, nel 2014 mi sono seduto a tavolino con il microdeghi e mi ha detto che dobbiamo migliorare qualcosa. Stiamo andando bene, la fronte è un grande investe ancora, però vogliamo fare di più. Volevamo che tutti, dai manager, i middle managers, ma anche i soldi, in produzione, tutti credessero in questa cosa. Le persone che hanno partecipato al bootcamp vedo che intervengono direttamente ai problemi in un'ottica diversa. Per noi è fondamentale la formazione, l'apprendimento, vendiamo e diamo emozioni ai nostri ospiti che passa attraverso i nostri operatori. Questo bootcamp che si basa su un impara di insegnare con Mezzo Kaizen e quindi mette gli operatori al centro di tutti i miglioramenti, il concetto della qualità era una grande occasione da non perdere. Una bellissima esperienza, mi è rimasto veramente lo stimolo a migliorarsi. Mi tengo fortunata di aver potuto partecipare. Le persone sono il vero asset strategico dell'azienda. Diventa importante strutturare l'addestramento in modo tale che la persona possa imparare in modo veloce e efficace il lavoro al quale viene adibito. Quindi quello che noi abbiamo cercato di fare è di portare questa metodologia in forma concreta per migliorare da subito le performance all'interno dell'azienda, ma soprattutto la crescita come persone, perché la chiave di ogni crescita e di ogni miglioramento sono le persone. Grazie. 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 Grazie.